Buongiorno bella gente dal pelo lungo e dalle corna belle Eccoci arrivati al giovedì, abbiamo già il riassunto completo quindi quello che fa red on solitamente al mercoledì notte perché è uscito intorno alla mezzanotte ma soprattutto ci sono tutte le raw complete quindi ciancio alle bande, possiamo iniziare tranquillamente a parlare del capitolo 1109 di One Piece Capitolo 1109 di One Piece Ostacolo, può anche voler dire ostruzione, blocco l'impressione è quello di andare a interrompere qualcosa Nella cover a richiesta, o meglio, iniziano le mini avventure Nelle mini avventure che cosa vediamo? Vediamo i fondali marini della vecchia Uano con praticamente Onigashima che è stata buttata lì dentro e troneggia sopra la vecchia Uano in mezzo al mare Punto. Quello che vediamo è proprio quello La vecchia Uano e il teschione di Onigashima praticamente posato lì con gli occhi vuoti che guardano verso l'alto Il capitolo inizia esattamente laddove si era concluso la scorsa settimana e la questione è, noi continuiamo a vedere in fronte praticamente Vegapunk che parla e in basso vediamo, continuiamo a vedere l'ECG di Vegapunk piatto quindi ci dà fondamentalmente la certezza che il povero Vegapunk è morto Vediamo nel video Vegapunk che parla con Shaka e i due hanno una sorta di brevissima discussione in cui praticamente Shaka suggerisce al buon Vegapunk di lasciare al mondo alcuni minuti per potersi preparare per poter preparare gli schermi, le lumacamere, i proiettori tutto quello che serve per poter vedere o sentire del messaggio di Vegapunk e quindi Vegapunk si rende conto che ha ragione e quindi informa la popolazione mondiale che hanno dieci minuti di tempo per poter preparare tutto quello che serve per poter vedere e ascoltare questo messaggio nel mentre noi vediamo praticamente vediamo la battaglia al piano di sotto che impazza con le navi della marina che sono un attimo traballanti e poi vediamo ovviamente i marin che iniziano a puntare verso i lumacofoni dicendo bloccateli fate in modo che non possano trasmettere il problema qual è? è che Vegapunk ha utilizzato una sua tecnologia e quindi sta trasmettendo attraverso i lumacofoni di tutto il mondo e non può essere bloccato tutte le comunicazioni che sta dando non possono essere bypassate non possono essere spenti i lumacofoni non possono essere tagliate le comunicazioni quindi di base di base tutto quello che viene detto non può essere bloccato a meno che non lo si blocchi alla fonte nel mentre però noi sentiamo che tutta questa chiacchierata sta praticamente proseguendo e quindi sentiamo che Rufy nel momento che sta continuando a tenere fermo per la testa il vecchio Saturno e stretto in mano il buon Kizaru praticamente sente questa informazione sente questa notizia che continua a uscire dai lumacofoni da tutto e quindi si distrae nel mentre si distrae anche Saturno perché Saturno guarda e dice di cosa sta parlando Vegapunk cosa sta succedendo qual è il suo obiettivo anche perché l'hanno visto morire banalmente e vediamo un po' al piano di sopra Usop, Nami, Chopper e Edison che parlano tra di loro dicendo ok ma questo è Vegapunk ma da dove sta parlando? cosa sta succedendo? e a quel punto c'è una sorta di trattativa tra Shaka e Vegapunk dicendo no dai ci vuole un'ora diamogli un'ora no bisogna che gli diamo meno tempo perché altrimenti non facciamo in tempo noi non possono esserci degli intervalli troppo grossi quindi un'ora è troppo va bene ok arriviamo a dieci minuti nel mentre intanto mentre i due discutono su questa roba praticamente abbiamo i giganti che stanno sacconando i Marine abbiamo Sanji che sta tenendo tra le sue braccia Vegapunk un po' come per intenderci la pietà di Michelangelo una delle tante pietà di Michelangelo e con Sanji che dice Vegapunk cosa succede? tu sei qua sei morto cioè sei qua e di chi è la tua voce? perché la tua voce sta andando in giro su tutti i sistemi di trasmissione ma tu sei qua e non stai parlando? a quel punto mentre vediamo che Saturn dà uno sguardo molto strano continuiamo a vedere i suoi occhi in quel momento andiamo a Marijoaz a Marijoaz vediamo quello che sono i balun dei pensieri e e qualcuno sta parlando con Saturn chiamandolo e dicendogli cosa sta succedendo perché Vegapunk sta facendo tutto questo e sembra che praticamente i cinque astri e Saturn stiano quasi comunicando a livello telepatico cioè i cinque astri tra di loro parlano vocalmente senza grossi problemi ma sembra che Saturn stia partecipando alla discussione con il pensiero e vediamo proprio la differenza dei balun e praticamente questi comunicano dicendo ragazzi Kizaru lo ha ucciso lo ha ammazzato dovrebbe essere morto l'ho visto mentre lo uccideva quindi non può essere e i cinque astri dicono quindi la morte del suo fisico probabilmente ha triggerato questa trasmissione e adesso dobbiamo capire da dove parte il segnale perché molto probabilmente il segnale parte dall'abophase di Egede e dobbiamo in un qualche modo bloccarlo intanto vediamo più o meno in tutto il mondo quello che è il quello che sono le reazioni del mondo alla richiesta di Vegapunk di approntare tutto per poter sentire il messaggio ma nel mentre ve lo dico è scattato il primo minuto perché in pratica abbiamo Shaka che ok sono passati nove è passato un minuto quindi cosa facciamo fra nove minuti cosa facciamo e intanto vediamo adressa rosa che stanno iniziando a preparare un po' di luma camere vediamo vediamo praticamente Leo vediamo Kyuros vediamo Rebecca che stanno approntando tutto ma sono decisamente molto preoccupati nel vedere tutto nel vedere questa situazione infernale assolutamente infernale e Leo chiede a Rebecca ma quindi quello è il dottore che è preso in ostaggio da da Luffyland e Rebecca dice sì ma non devi credere ai giornali perché non è possibile non è vero non è vera questa cosa andiamo andiamo a Fusha vediamo Vup Slap che dice oh ragazzi noi qua non abbiamo un proiettore noi siamo un villaggetto povero e noi possiamo solo sentire la voce di Vegapunk non possiamo vedere quello che succede poi andiamo a Water 7 Iceberg chiede alla sua alla sua nuova segretaria che si chiama Alice c'era un hint che ci faceva vedere questa cosa di un personaggio di nome Alice pensavo fosse importante e invece Redon ci stava dicendo il nome della segretaria di Iceberg vabbè e la segretaria dice no raga resti tranquilli ho già preparato tutti gli schermi e quindi è già tutto a posto siano già pronti tutti possono già sentirlo ascoltarlo ok poi andiamo andiamo sulla sulla nave volante del World Economy cioè da Morgans e Morgans o Apollo e Vivi assieme a tutta la redazione sono davanti a uno schermo aspettando proprio quella che è l'informazione che che praticamente Vegapunk deve dare ma vediamo tanta altra gente vediamo uno spaccato del mare dell'est vediamo quello del mare del nord in mezzo alla neve quello dei mari del sud tutti in canottiera e quindi anche il mare dell'ovest quindi praticamente siamo pronti alla trasmissione vediamo a Camabacca e i vari i vari rivoluzionari che guardano proprio la scena davanti a uno schermo con i cuoricioni e Dragon ovviamente che cosa fa Dragon è silenzioso e pensa alle parole di alle parole di Shaka che diceva a breve io morirò poi visto tutto questo escursus in giro per il mondo torniamo a Eged perché è arrivato il momento di portare avanti gli schiaffoni quindi vediamo Rufy che parlando proprio con Saturn gli fa presente che ok ma quindi non capisco perché se io ti sto picchiando tu sei sempre qua e non ti fai e non faccio e non fanno effetto i miei schiaffoni perché e evitando un attacco proprio due attacchi uno di Kizaru che inizia a lanciare laser dagli occhi e di Saturn che usa una zampa per provare a colpire la testa di Rufy Rufy si ribalta all'indietro poi carica le braccia perché li prende tutti e due uno per la testa e l'altro ce l'ha ancora in mano crea praticamente la stessa base per un per un gom gom rocket no pistol lo tira indietro poi quando fa per sparare in avanti invece che spararli dritti li spara uno contro l'altro utilizzando un attacco nuovo che si chiama Dawn Chimbal e praticamente li spiaccica uno sull'altro e vediamo però l'effetto dei l'effetto dello spiaccicamento perché in pratica sia Kizaru che che Saturn sono diventati praticamente degli impasti da pizza e vediamo proprio Ruffy che infila un dito sotto a tutti e due e li inizia a far ruotare come se fosse l'impasto della pizza cioè li facciamo ruotare a livello acrobatico e poi cosa fa li lancia tutti e due come se fossero dei dischi molanti solo che uno che è Kizaru praticamente finisce dentro una nave della marina con un'esplosione e lì non abbiamo più notizie di Kizaru mentre Saturn fa praticamente quello che faceva Ruffy col Gongomufo in pratica inizia a ruotare ruota su se stesso e torna indietro come un boomerang e va per colpire Ruffy e Ruffy ovviamente scappa via cercando di evitare di essere colpito da quello che sono i suoi arti avvelenati mentre invece vediamo Kizaru è sdraiato a terra e ansimante con un braccio sopra gli occhi e qua siamo arrivati alla fine perché a questo punto dopo che Ruffy ha evitato gli attacchi di Saturn veniamo praticamente a vedere quello che i cinque astri si comunicano telepaticamente e in pratica dicono che ai Saturn non c'è tempo dobbiamo bloccare Vegapunk non possiamo permettere che succeda qualcosa e in una meravigliosa doppia pagina vediamo in questo momento tre probabilmente perché il quarto è oscurato vediamo quattro cerchi di evocazione tutti attorno a a Saturn e molto ma molto ma molto più grandi no sono quattro perché uno è nella piega della della pagina quattro enormi cerchi alchemici con quelle fiamme quei fulmini che si sono visti proprio quando è stato evocato Saturn e Rufy praticamente si gira fa l'enerface con gli occhi che gli schizzano fuori dalle orbite ma soprattutto vediamo Sanji che mentre sta portando via Vegapunk si gira completamente stranito e dice ma quello questa situazione quelle fiamme quei fulmini sono esattamente quello che abbiamo già visto che è già successo quando è appresso quel maledetto vecchio ragno e lì si chiude il capitolo quindi con l'entrata in scena l'evocazione dei cinque astri quindi a questo punto qual è la situazione a questo punto la situazione è Kizaru è su una nave steso che è ansima quindi bisogna capire se avrà le forze o meno di ritornare sull'isola è passato un minuto quindi il countdown non è più un countdown da dieci ma è un countdown da nove minuti sono stati evocati tutti i cinque gli astri di saggezza e soprattutto deve entrare a questo punto in azione il robottone e Rufy non capisce minimamente perché perché Saturn non subisca danni quindi le domande importanti ci sono tutte ora bisogna solo far passare dieci minuti evitando che i cinque vecchi vadano a detonare il il labo phase quindi ora ora più che mai difendete il labo phase detto questo se vi è piaciuto il video pollicione in alto se non vi è piaciuto pollicione in basso ma mi dovete segnare il perché commentate commentate sì lo so direte tutti che è stata una scammata in realtà Oda sta tirando la situazione per le lunghe ci sono ancora tre capitoli prima della fine del volume perché se fa un altro volume da dodici mancano tre capitoli quindi in tre capitoli avete voglia a far finire la situazione mi raccomando se volete saperne di più anche sugli spoiler o volete vedere i nostri contenuti di là su segnali di fumetto ci sono i reel gli spoiler reel e c'è la live che abbiamo fatto ieri sera io e cenere su questi spoiler con quello che sono le nostre prime idee su proprio questo capitolo prima che uscissero gli spoiler definitivi detto questo io vi saluto e vi do la buona giornata ciao belli si non ci ha scammato però ha detto ah volevate cioè come diceva un ragazzo nei commenti qua Oda se praticamente è in cosplay di Zeb89 e volevi eh una roba così maledetto Oda voleva proprio farci farci giurare delle rogne ahhh ah 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 ah